come la gente ne va? questa ragazza come la gente in giugna non si parlava con nessuno la sinistra non si parlava con nessuno comunque non doveva fare chiaro che era una nascita, non stava in giangheressa sola si è dicendo a me troppo con qualcuno che voleva giangere papà e gli andava a giangere papà e gli andava a giangere papà e gli andava a giangere e gli andava a giangere ma come facci? ma i ragazzi non conosceva i ragazzi non mi sono venuti ma io ci diceva che è giangere perché io la chiedevo e ora ci chiedevo e ci mettevo un rifugno e noi ci sono andati vicino e noi ci sono andati a fare una coppa così allora la fine è stata guardata e ci andavamo a parlare 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 e ci andavamo a giangere n … åcaidad bado Milha bado Milha bado Milha bado Milha bado Milha hainio aztensato bado Milha e tu cosa facciamo? è che la volta a vedere un padre che è, un padre che è un padre che è ma questo non è come si chiamava un libro che è? ma si chiamava un giudone che era un giudone ah no, non mi era una puntata che era un giudone un padre che è un padre che è un padre che è e se nemmeno stai a vedere un padre che non possiamo vado vado se nemmeno un buon buona notte buona notte se nemmeno un buon e non lo so 38 e bambini e bambini saluto con la figlia mia e bambini e bambini quindi non è io non lo so e bambini ma non è mi spazzerà un saluto perché la miglia di pepe di mi spazzerà perché non vuol dire papà tagliarmi se vuoi gusti no, non vorrei raccontare una cosa non sapete che non vuole fare non so se lo sapete che lo pratico è meglio chi è che lo pulsate? lo sapete tutto quello? tu lo sai che lo pratico è meglio quindi sapete tutto quanto, no? allora una volta mio padre mio padre non mi hanno capito la carne è così statevi accorti che se vuoi capire la carne è così però chi è una verità quando vi parlate io non lo sento però guardate chi deve leggere coppa a occa quindi facciamo guardare coppa a occa quando chi ne parla e parlate perché sono chi non lo capisce poi c'è la carne spaggia macchina rica spaggia macchina rica non c'è la macchina rica che è il taglio che prima era la casa di Rosetta cioè non fa tutto un forse la casa di Cipriano a casa di Rosetta pronto a cadere in casa c'è la macchina rica io non lo sto a fare e non c'è la macchina rica spaggia macchina rica comunque tra le tante uno svantatore c'è la macchina rica non c'è la macchina rica ma c'è la macchina rica mi t'arra duc Omaha e non c'è la macchina rica non c'è la macchina rica ma a cadere al Marino Frigo di Banca Revisore di Cattolio l'Evra, 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 l'Ivra e l'Evra l'Evra e l'Evra e l'Evra l'Evra e l'Evra 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 è andato a le mie conguardo ma io ti posso faici il tuo conto e ti sto scauto ci stai e questo è tutto ma io ti lo so ma io non mi ero però io si doveva stare a casa io ti ho detto a questo ma tu ti sento ma senta pari papà un saluto va bello così ma buon un saluto ci vorrei ciao ciao ma la popolazione facendo caso però guardiamo dietro davanti oh caspito chi sta bene muovendo le bocca? un po' perfetto chi sta dicendo si sono bello che non ci sono due ma fa che guariti chi si non si sente buono come chi è stato a casa? chiedi papà chi non ci sente buono chi non si sente buono ma quanto male può essere proprio non esiste ma non può essere proprio papà con un bellissimo guarda il bellissimo guarda il bellissimo che è il giorno che stai da te guarda il giorno ma non ti senti la peglia papà senti tu questo tappo e tu e tu e tu è spaccato ma non ti senti la peglia ma tu mi senti la peglia ma il mio fratello non ci sta bene ma il mio fratello non sapeva niente perché ora per una settimana per il giorno c'era il mio fratello ieri però c'era il mio fratello perché pensava che aveva consenso il prodotto il mio fratello ha pagato la stessa macchina di richiede ma chi è freddo? nooo chi è la peglia che aveva letta freddo facciate così capiglia eeeh 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 sono No, 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 no.